Tengono le borse europee dopo gli attacchi terroristici che hanno colpito Parigi. Milano chiude in calo frazionale con le consorelle miste sulla scia di Wall Street. L'eco degli attentati di venerdì si è fatta sentire sul settore turismo, a Parigi vendute a Corre Air France KLM. A Milano il Futsimib chiude in calo dello 0,14%, lo Cher a meno 0,2%, poco sotto la parità a Parigi con il CAC a meno 0,08% in verde Londra e Francoforte. Su Futsimib rimbalza di oltre il 2% Anima Holding, mentre Finmeccanica guadagna il 2,7% beneficiando degli acquisti sul comparto difesa dopo i fatti di Parigi. Vendite su CNH che cede il 5,33% dopo report negativi. Sull'All Share RCS Media Group perde oltre il 10% dopo che Mediobanca ed Equita hanno tagliato il target price.